bene siamo giunti la prepartita di lecce della lanta manca ancora meno di 24 ore perché siamo verso le sette e mezza di martedì intanto sta giocando il napoli e l'udinese napoli con l'empoli sta pareggiando secondo tempo e lo stesso l'udinese con lo spezia comunque sia vista la conferenza stampa di casperini cerchiamo di delineare un po quale sarà lo schieramento dell'atalanta di domani contro lecce una partita sicuramente non facile perché lecce in buona forma in questo momento e comunque è una squadra che si sa si sa valere in campo lo ha dimostrato già con l'udinese anche nell'ultima partita e quindi sarà da giocare e ovviamente come dice gasperini si scende in campo per un solo risultato cioè di vincere le partite per gasperini non ha importanza comunque la posizione in classifica al di là di questo appunto dice che comunque essere secondi o terzi comunque siamo insieme a tutte le grandi squadre questo è l'importante e potremmo giocarcelo appunto dopo le due partite di questa settimana ancora in cima alla classifica stanno arrivando anche le altre altre squadre con tipo la juventus che era partita male ma anche come dice gasperini anche un torino o anche una fiorentina che sicuramente daranno bagarre anche loro per poter conquistare per lo meno dei posti in europa e quindi ipotizziamo quindi questa formazione formazione con musso in porta per demiral sembra che non sia non sia preferito eventualmente a scalvinio coli e per cui penso che giocherà uno dei due dei due giovani e perché poi demiral appunto anzitutto non ha di fida quindi giocherebbe nel caso di un problema appunto a livello disciplinare non potrebbe giocare con l'inter e diventerebbe importante per con l'inter e quindi un pochettino di dolori ma comunque sembra più propenso anche se l'ha portato comunque a lecce a non farlo non farlo giocare quindi dovrebbe esserci uno dei giovani dicevo dico uno dei giovani perché palomino viene portato con la squadra ma soprattutto ha detto gasperini che viene portato per assaporare un po il sapore il sapore della trasferta ancora visto che comunque lui se l'ha nato si è allenato in palestra da solo però da un po di tempo che non che non so campo i campi di calcio e quindi è sicuramente preparato per 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 fare magari qualche sprazio e magari se la situazione lo consente magari loro potrebbe mettere dentro anche per anche per per dare un po di di fiducia al ragazzo che comunque è da diversi mesi fuori dai campi di gioco quindi avremo Toloi e Jim City credo qui è uno dei dei giovani in centrocampo non so sulle fasce io credo che siano tutti siano tutti delusi da Atebor quindi giocherà più e più facile che giochi soppi piuttosto che Atebor e invece sarà confermato Mele che tra l'altro può festeggiare la convocazione nazionale per i mondiali per quanto riguarda davanti io confermerei Ederson non ha parlato del dell'attacco se non del fatto che sicuramente giocherà Zapata e quindi io vedo credo che un Zapata Lukman ci possa essere possa essere l'inizio della della partita con un Ederson dietro con Miners e eventualmente confermare ancora Pasalic oppure c'è l'alternativa appunto di provare come voleva Scalvini anche provare di mettere Scalvini al posto di Pasalic e quindi Ocoli sicuramente confermato in difesa vedremo quali sono le ultime decisioni che appunto ha detto non ha ancora preso quindi la formazione come sempre la farà all'ultimo momento però questi sembrano che siano indicazioni parlando del come faccio sempre io ho sbagliati quasi tutti la domenica scorsa però faccio qualche pronostico abbastanza veloce Napoli e Empoli che stanno giocando adesso sono al sessantesimo sullo 0 a 0 però vedremo ma sicuramente Napoli con qualche qualcosa riesce a riuscire a vincere comunque la partita Ludinese secondo me ha bisogno di vincere con lo Spezia ne ha la potenzialità vediamo se riesce a riprendersi comunque direi un 2 cremonese milan 2 sicuramente perché la cremonese ci darà del figlio da torcere ma purtroppo per lei il milan è decisamente più forte domani appunto con leccia atalanta che di cui direi e spero che siano due sassuolo roma sassuolo roma direi che il sassuolo ha perso anche Empoli darà sicuramente il figlio da torcere io dirido io io stavolta sparo un 1 ma perché sassuolo ha bisogno veramente di fare punti e ovviamente anche per noi sarebbe una buona cosa poi se avremo Torino Sampdoria direi un 1 fisso la Sampdoria ormai non si vede da tempo certo poi come come detto il pallone e il ritondo potrebbe darsi che magari sia la volta buona la Fiorentina Sernitana ha fatto bene anche a Roma poi ha pareggiato con la cremonese ma ha giocato comunque una buona partita come detto che la cremonese ma tutte le altre squadre compreso il Lecce di domani sono comunque squadre non facili da cui giocare quindi una Fiorentina però che gioca in casa e ne darei un 1x Inter Bologna 1 fisso Bologna che è riuscito a vincere col Torino ma comunque penso non ci siano problemi Verona Juventus Verona è inesistente in questo periodo e quindi un 2 fisso infine Lazio Monza la Lazio gioca in casa con un Monza direi anche qua un 1 fisso sono partite che rispetto alla domenica scorsa si si affrontano praticamente la testa contro contro la coda quindi la maggior parte è facile dare delle vittorie alle squadre che sono in cima alla classifica però appunto non è detto che ci siano delle sorprese prima di arrivare all'ultima giornata in cui noi avremo l'Inter ma anche le altre ci sono alcuni scontri che sono particolarmente interessanti quindi chiudo il prepartita di Lecce Atalanta e niente saremo a casa ovviamente per lavoro eccetera quindi la vedremo a casa anche perché a Lecce è bella dura è una bella trasferta vedremo poi al ritorno perché al ritorno avremo Bologna e Spezia mi sembra fuori casa quindi potrebbero essere accessibili per poter andare a fare una trasferta direttamente andarla a vedere in trasferta comunque si pensiamo adesso a queste due partite questa è la ultima settimana di gioco e quindi vediamo come si concluderà la quattordicesima giornata di Serie A una buona serata a tutti grazie a tutti